Qui al Codao del 2024 come Talents Venture abbiamo portato diversi dati, tra i due più interessanti il primo c'è quello della demografia, sicuramente siamo tutti preoccupati della riduzione della popolazione giovanile nei prossimi anni dall'altro lato però c'è una grande opportunità del lifelong learning infatti a fronte di una riduzione di circa mezzo milione di giovani nel 2040 avremo una popolazione di 17 milioni di persone tra i 30 e i 55 anni che ogni anno dovranno essere riformate il secondo dei dati, quello più interessante ovviamente l'evoluzione e l'esplosione dell'intelligenza artificiale non sono solamente dei casi di uso belli da vedere ma già oggi questi strumenti possono essere utilizzati dagli Atene italiani per migliorare i loro servizi e migliorare le strutture organizzative dell'università